Buongiorno a tutti, sistemo gli appunti perché è stato talmente interessante che ho preso troppi appunti, lo ammetto. È arrivato l'amministratore delegato di Intesa San Paolo Messina che salutiamo. Salutiamo anche il dottor Strano, responsabile dei risorse umane di Intesa San Paolo. Grazie. Grazie. Partirò abbastanza velocemente dato che ho condiviso pienamente la parte di relazione di Massimo Masi rispetto a quello che è la scadenza del contratto nazionale e quindi la possibilità di un suo slittamento con dei paletti abbastanza importanti rispetto alla scadenza, quindi al recupero economico. E quindi ci lascio che quello che ha detto Massimo per me è la parte fondamentale, così come l'importanza del percorso unitario confederale che è stato avviato e che ha assolutamente un valore aggiunto importante confederale non contro la Fabi ma, come anche è stato ribadito oggi, un'unitarietà con la parte autonoma. Unitarietà di intenti fondamentale in questo momento di cambiamento dirompente, dirompente, di rivoluzione, ne abbiamo parlato in questi giorni, rivoluzione, non solo evoluzione, non solo innovazione. Siamo in un momento veramente fondamentale. Io devo dire che noi nel gruppo Intesa San Paolo non parliamo neanche più di futuro, parliamo al presente di una serie di questi elementi. E l'ultimo piano industriale, quello che ci è stato illustrato, quello che abbiamo letto, studiato, che anche il dottor Strano ci ha illustrato, ed è qui devo dire, illustrato ma cui non abbiamo partecipato nella costruzione e forse questo è un prossimo passaggio importante per le organizzazioni sindacali. In questo piano industriale si prosegue rispetto a quello che è avvenuto negli ultimi anni, a quello che è il contesto che stiamo vivendo. Un contesto in cui avremo, per quello che ci aspetta, un ridimensionamento, dimensionamento forte delle filiali con criteri pesanti, avremo la chiusura di 1500 filiali, ma avremo il proseguo di questo processo di chiusura delle filiali, con tutte le implicazioni anche sociali di cui abbiamo parlato, di cui tra l'altro ieri un banchiere parlava di spietatezza, e su questo termine io ritorno perché mi è sembrato perfetto. Chiuderemo le filiali, ma continueremo in un'operazione di diversificazione degli interventi, quindi Banca 5, la Banca dei Tabaccai, opereremo attraverso le poste, abbiamo fatto un accordo importante per i nuovi canali distributivi, poste, Banca dei Tabaccai, chiusura fisica delle filiali. Questa è la strada, la coniughiamo insieme alla maggiore digitalizzazione, multicanalità, quindi l'apertura di filiali online, e devo dire con forme diverse, diversificate di rapporto di lavoro, perché quelli che sono i nostri agenti, i nostri colleghi di Banca 5, lavorano con telelavoro, quindi tutta una parte importantissima, questa affianchiamo il lavoro che sta proseguendo su Ispcasa, ma apriamo anche un'importante parentesi che sarà un investimento forte rispetto alla Banca Assicurazione. I nostri colleghi nelle filiali non sono più solo bancari, sono bancari e assicuratori, e alla fine di questo piano industriale l'idea è quella che saremo la prima Banca Assicurazione in Italia, è uno dei primi player addirittura non solo in Italia, quindi con un cambiamento fondamentale, a questo aggiungiamo quello che è già stato avviato con i contratti ibridi, su cui bisognerà aprire una riflessione, ma anche un approfondimento come sindacato, perché ho sentito delle cose che non sono esattamente proprie. abbiamo aperto, abbiamo portato all'interno del settore, all'interno del nostro gruppo, una serie di consulenti che erano esterni e con contratto a tempo indeterminato, quindi ci sono dei cambiamenti assolutamente epocali, ci sono delle rivoluzioni importanti, cambiano i canali distributivi, cambiano le tecnologie, cambia il modo di lavorare, cambia il contenuto professionale del lavoro, cambiano le competenze che sono richieste ai nostri colleghi, cambia il luogo di lavoro, anche su questo dobbiamo parlare e approfondire come rappresentanze sindacali, smart working, noi abbiamo più di 8.500 persone che lo fanno, il punto è che come sindacato noi abbiamo le richieste di altre persone che vogliono aderire, quindi bisogna fare una riflessione, anche culturale, su come approcciarci allo smart working e una riflessione rispetto a come contattare e costituire l'RSA. Comunque stiamo parlando di un cambiamento dirompente, di un cambiamento in cui noi vogliamo esserci, noi vogliamo conoscere, capire, contattare, nel senso di capire, contrattare, partecipare, in un modello partecipativo, il livello di relazioni industriali deve essere adeguato, per avere questo tipo di relazioni bisogna che ci sia un'unitarietà sindacale e su questo bisogna assolutamente tornare, così come su Industria.4, ne ha appena parlato Roberto, ma Industria.4 non va vista come un ostacolo da superare, bensì come un'opportunità, una forte opportunità per le imprese, il lavoro e il Paese. È indispensabile percorrere i nuovi orizzonti che le innovazioni tecnologiche ci aprono, senza subirle, ma coniugando sviluppo e occupazione, innovazione e sostenibilità, mettendo sempre al centro il valore della persona. Si tratta di processi su cui non possiamo mettere dei blocchi e che interessano tutti i settori, che interessano tutti i territori, tutte le categorie merceologiche. Quindi anche in contraddizione con quello che sta avvenendo nella società in cui, nel nostro Paese, ma non solo nel nostro Paese, dove da una parte si vogliono chiudere le barriere, si ritorna al protezionismo e dall'altra questa globalizzazione che continua, che è inevitabile data la situazione tecnologica. Ma se l'innovazione produce efficienza, redditività, valore per le imprese, a scapito del lavoro e dell'occupazione, allora non va bene. Bisogna ricondurre tutto questo ad un progresso anche di tipo sociale. Spesso le valutazioni oggi si fermano solo a giudizi positivi del modello di Industria.4 e non verso le ricadute sul lavoro, se non per dire, affermare, che sarà ridimensionato. Così però non va bene. Non funzionerà l'economia. Non crescerà il Paese. Allora bisogna pensare che, invece, la nuova competitività ed efficienza, i nuovi margini economici del valore aggiunto, il più alto tasso di produttività costruito nelle imprese, vadano anche destinati al lavoro. E dobbiamo, possiamo, in questo senso ragionare sulla possibilità che si possa lavorare di meno con le stesse condizioni economiche e contrattuali. Perché la nuova efficienza di Industria e Credito.4 lo potrà consentire. Quindi in questo... Silvia, dovresti avviarti le conclusioni. Oddio. Allora salto completamente la parte rispetto all'unitarietà perché voglio invece brevemente parlare di quello che è un ritorno importante. Un ritorno importante che nel gruppo è stato fatto rispetto ad un accordo che lega i raggiungimenti degli obiettivi del piano industriale anche per tutti i lavoratori e le lavoratrici. È un accordo importante. A breve dovremo affrontare il rinnovo del contratto di secondo livello che è un altro punto fondamentale e soprattutto parlare. È aperta la procedura sugli NPL. Castagna ha detto delle cose importanti. noi vorremmo come Wilka andare sulla strada ma anzi migliorare quello che dice Castagna. Messina nel passato ha sempre affermato e credo continuare a affermarlo che le persone sono al centro della propria organizzazione, della propria banca. Ecco, per noi è stato uno shock e non abbiamo mai esternalizzato nulla. Il fatto che a questo punto invece la partita NPL costituisca qualcosa che viene data all'esterno ha creato uno shock rispetto ai colleghi. Come Wilka, quello che ha detto Massimo, è la nostra bandiera. Noi siamo contrari alle esternalizzazioni. A questo punto vogliamo e desigiamo un accordo che assolutamente tuteli come garanzie in tutto e per tutto questi che sono colleghi che hanno fatto un buonissimo lavoro in questi anni, tutelati nel senso di garanzie stabili negli anni. Chiudo, vado a chiudere. Però, permettetemi, ci tenevo a sottolinearlo. Tutele e garanzie stabili negli anni che diano tranquillità e che si trovi il modo di costruire un legame per questi lavoratori con il gruppo Intesa San Paolo. Chiudo solo dicendo che ieri Giorgio Benvenuto ha dato una prova di quello che siamo, di quello che è il riformismo sindacale intelligente che ha la Wilk che vogliamo portare avanti. E su questa strada noi ci siamo, questo è il nostro DNA e andremo su questa strada. Grazie.